I liquidi biologici trasmettono il virus dell'HIV. Quando parlo di liquidi biologici io mi riferisco in particolare a tre principali liquidi che gli esseri umani producono. Quali sono questi liquidi? Innanzitutto il primo è il sangue. Il sangue viene chiamato come l'oro rosso, è quel liquido che scorre nelle nostre vene che dà la possibilità di alimentare il nostro organismo. E proprio nel sangue scorre il nutrimento che appunto arriva a alimentare il nostro organismo umano. Vi ricordo che nelle vene che all'interno c'è il sangue e il sangue all'interno possiede tutte quelle, chiamiamole, non molecole, ma quei prodotti che appunto noi andiamo a ingerire quando mangiamo. Non è che ovviamente ci sono pezzi di pollo, pezzi di frutta, pezzi di verdura, pezzi di pasta, no. Ma nel sangue sono disciolte le sostanze nutritive che arrivano sotto forma di molecola grazie alla decomposizione, alla, come dire, digestione dei cibi che noi assumiamo grazie alla nostra alimentazione. Ecco, questo è la direzione. Secondo liquido, lo sperma. Lo sperma, che è un liquido bianco lattaginoso che viene emesso solo ed esclusivamente dagli uomini, dai maschi, è un liquido che veicola, quindi trasporta, il virus dell'HIV. Ed altro liquido è il latte materno. Il latte materno può trasmettere questo virus, può, non ho detto che trasmette, può eventualmente trasmetterlo. Vogliamo aggiungere un altro liquido per essere un po' più, diciamo, con la pusa sotto al naso? Volendo, ci si può mettere anche un altro liquido, che sono le secrezioni vaginali. Le secrezioni vaginali che vengono emesse da una donna oppure da una ragazza nel momento in cui viene particolarmente stimolata nella sua, diciamo così, parte intima, nella sua fessura, ecco che emette questo liquido, che in genere è trasparente e odoroso. E proprio all'interno di questo liquido c'è una quantità di virus. Non è una quantità molto elevata come nel caso del sangue e come nel caso dello sperma dell'uomo, no. Però c'è comunque una quantità di virus presente che potenzialmente potrebbe, per così dire, trasmettere il virus in questione. Altro aspetto è da dire ed è il seguente. Ed è il fatto che questi liquidi biologici potenzialmente potrebbero, possono trasmettere il virus. Il virus non si trasmette con una stretta di mano. Io domani esco con una persona seropositiva, per esempio, sto facendo un'ipotesi, diciamo così, isolata, e stringo la mano al ragazzo o alla ragazza seropositivo o seropositiva. Ebbene, io non mi prendo il virus, perché il contatto con la pelle di un seropositivo o di una seropositiva non mi provoca questo virus. Io sono tranquillamente sereno e felice. Non ho il virus. Posso tranquillamente baciare questo ragazzo o questa ragazza seropositivo o seropositiva, perché non mi becco il virus. Posso tranquillamente toccarla, nel senso toccargli le gambe, il viso, le orecchie, il collo, il seno, i glutei. Niente. Non ho problemi di sorta. Anche lui può, o lui o lei, può toccare tranquillamente me. Qual è, dunque, il comportamento sbagliato che può eventualmente provocare l'HIV? È molto semplice. È il liquido che contiene il virus che viene a contatto diretto con una persona sana che non ha il virus. Un esempio pratico, per esempio, il rapporto omosessuale di due uomini, di cui uno ovviamente è il soggetto attivo e uno, per esempio, è il soggetto passivo. In questo caso qua, il soggetto attivo, che è di fatto un siero positivo, nel momento in cui va a penetrare il soggetto passivo, senza l'uso del profilattico, e eiacula all'interno del soggetto passivo, dentro quindi il suo lato B, ecco che potrebbe trasmettere il virus. Non è certo, non è sicuro che il soggetto passivo prenda il virus dal soggetto attivo, però ci sono delle probabilità, ci sono, diciamo così, delle possibilità concrete che la persona passiva possa prendere il virus. Lì per lì non succede niente, ma dopo tre mesi, tre o quattro mesi, potrebbe subentrare una febbre, e nel momento in cui si vanno a fare le analisi del sangue, e nell'analisi del sangue è scritto che è un risultato positivo, allora la persona diventa siero positiva, quindi è diventata un HIV+. Io quindi dico, che vi posso dire? Vi posso dire una cosa sola, l'ho detto più e più volte, in questo canale non mi stancherò mai di dirlo, di ribadirlo, di ripeterlo. Volete divertirvi? Volete godere? Volete avere il piacere sotto mano? Bene, nessuno vi nega, nessuno vi vieta di provare il piacere intimo e umano, ma per avere, per provare il piacere intimo e umano dovete provare a utilizzare, non dovete provare, dovete utilizzare, dovete utilizzare questo benedetto profilattico. Questa guaina di plastica va a evitare che il liquido che l'uomo emette vada nella fessura femminile oppure vada nella mucosa di un altro uomo, proprio perché impedisce di fatto che liquidi vengano a contatto diretto. Un contatto indiretto invece è quando praticamente una persona si sfila il preservativo e all'esterno c'è il liquido vaginale di una donna. Non ti preoccupare perché quello non è un rapporto a rischio, perché è un rapporto in cui c'è un contatto indiretto e non diretto. Grazie, torno nell'argomento diretto e indiretto al prossimo video che realizzo oggi e che ti invito a vedere dopo di questo. Un saluto in questo canale, ora non so se è prima o dopo, quindi vada a vedere, trova contatto diretto HIV e troverai il video in questione. Niente, grazie a tutti sia per l'ascolto sia per la visione, mi raccomando iscrivetevi a questo canale dedicato, incentrato sull'HIV barra AIDS perché oggi come oggi parlare di questo virus significa salvare delle vite umane. Il preservativo, il condom detto in inglese o profilattico oppure come dicono nel nord dell'Italia goldone non è uno strumento indesiderato, non è il nostro nemico, ma è il nostro amico, il nostro prezioso alleato ed è soprattutto un fondamentale salvavità che salva le vite degli esseri umani. Non date retta dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione, a chi dice che l'HIV barra AIDS non esiste perché io sono convinto invece che questo virus che poi se non trattato diventa AIDS esiste e sia una piaga di cui purtroppo nessuno parla più e soprattutto di cui c'è molta paura. Grazie, un saluto, iscriviti, come dico sempre non sono un virologo, non un infettivologo, scusatevi tolgo quello il virologo perché è sbagliato, non sono un infettivologo, non sono un medico, non sono un dottore, però ho competenze mediche che ho acquisito grazie all'accurato studio che ho fatto della malattia e quindi vi posso dire che io penso di essere portatore di verità. Grazie e saluti e a presto.